Siamo al Frida Art Cafè con Francesca Bellino che presenta questa sera Sul corno del rinoceronte, un titolo che a me è piaciuto parecchio, ma perché proprio questo titolo? Poi è il tuo primo romanzo dopo tanti saggi, quindi avrai molto da raccontarci. Il titolo del libro va scoperto leggendo, non posso raccontare molto perché appunto come per tutti i romanzi il titolo sintetizza parte della storia, però bisogna andare avanti nella lettura e scoprire questa storia ambientata tra Italia e Tunisia. Le protagoniste sono due donne, Mary e Meriem, e si muovono in diversi momenti perché il libro racconta più momenti temporali, ma in particolare c'è questo giorno speciale che è il giorno dopo la cacciata di Ben Ali, che è un giorno in cui finalmente la Tunisia dopo 23 anni di dittatura scopre la sua libertà e incomincia a scoprire la sua libertà e in particolare la protagonista italiana Mary si trova in Tunisia per raggiungere Kerouan per il funerale della sua amica tra festa e protesta e quindi scopre moltissime cose della storia della Tunisia, anche così come il lettore si trova sicuramente violentemente a contatto con il confronto tra la cultura italiana e quella tunisina e con la storia del Mediterraneo che è però la storia anche dell'Italia, è la nostra storia, non dobbiamo sottovalutare la vicinanza che c'è tra questi due paesi e quindi è un libro che procede molto a specchio, tra le due donne il confronto è centrale. Primo romanzo, tanti saggi, dove ti sei trovata meglio? In questo romanzo oppure nei saggi? Quale preferisci? Ecco da oggi in poi la tua avventura letteraria dove continuerà? Beh sicuramente romanzi perché il romanzo sintetizza molte cose ed è un'evoluzione della mia scrittura in questo caso e ovviamente avendo scelto un contesto storico significativo e forte come la rivoluzione tunisina o comunque come l'immigrazione in Italia e c'è una grande ricerca che ovviamente parte di me perché io lavoro come giornalista da quasi vent'anni che non fa male come dire alla narrazione del romanzo. Può anche rendere le storie immortali nel tempo perché si può leggere un romanzo per imparare non soltanto per emozionarsi. Ovvio che quando leggiamo un romanzo abbiamo anche questo forte impatto con le emozioni e quindi ricordiamo molto meglio quello che abbiamo letto. Cosa stai leggendo in questo periodo? Molto poco devo dire, sono in vacanza in questi giorni e quindi sto aspettando di incontrare dei nuovi libri perché i libri anche si incontrano come le persone, sono preziosissimi e non è sempre facile trovare quello giusto quindi speriamo di incontrare un buon libro. Però in questo momento ti stai divertendo perché il tuo libro è uno dei più venduti in Italia, almeno anche qui a Tostuni ci dicevano gli amici della bottega del libro che è uno dei libri più gettonati di quest'estate quindi a noi non resta altro che farti un in bocca al lupo particolare e che ti aspettiamo presto a Tostuni magari con il tuo nuovo lavoro. Grazie, grazie per essere venuti. Grazie a tutti.